il top di gamma per le faccende domestiche cucina 10.000 pietanze e aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino all'università tesoro è stupendo è proprio quello che ci servirebbe quanto ha detto che costa questa gamma l'abbiamo in promozione al prezzo speciale di 7.999 dollari finanziato in 48 mesi a tasso zero due anni di garanzia per ricambi e manutenzione di notte entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di effrazione o presenza di fumo mi scusi quanto costa quello laggiù l'MP800 costa un po' di più ma è dotato di altre funzioni seguitemi vero mostro costa un po' di più e ha altre funzioni non mi convince eccolo rimetterlo in sesto è stato un po' complicato era davvero malconcio non ricordo cosa gli era successo un'auto incidente stupido oh capisco comunque adesso è come nuovo ma abbiamo dovuto resettarlo abbiamo cancellato la memoria non le spiace nessun problema bene ha un nome? l'ha scelto mia figlia AX400 il tuo nome Cara mi chiamo Cara non le spiace non le spiace Grazie a tutti. Grazie a tutti.